mi hanno chiesto di stampare questo oggetto e ho avuto un po' di problemi possiamo vedere che l'ho stampato in questa direzione e nel salire questa parte che vedete è uscita male ha sbavato cosa ho fatto ho provato a inclinare l'oggetto per far sì che l'angolo sia sufficiente cioè che non sia troppo in pendenza ho inclinato l'oggetto in questo modo ho fatto poi un cut off un cut off taglio l'oggetto sul fondo è un modo per verificare prima se ci saranno errori in fase di stampa quindi faccio un cut off e lo lancio così l'ho lanciato anche questo è uscito lo stesso male è uscito lo stesso male allo stesso modo vedete qua sempre il pezzo ho sistemato in mesh mixer l'oggetto gli ho creato una L in questo modo sta bene dritto un corso del genere l'avevo già fatto e quindi non lo faccio per la stessa identica cosa è un problema in più cioè uno step in più la L fa in modo che questo non ondeggi ma bisogna trovare anche l'inclinazione giusta per far sì che quella parte che usciva male esca bene non esca sbavata sono entrato in mesh mixer oltre che mettergli una L le ho messo un altro angolino a 90 gradi qua perché ve lo faccio vedere adesso così facendo ricerco l'inclinazione che secondo me potrebbe non fare uscirne supporti e in più far uscire l'oggetto giusto imposto un cut off che potrebbe essere di 43 perché me lo ricordo e guardo la visualizzazione layer come parte parte correttamente come avevo già ipotizzato un po' prima ci ho pensato un po' su prima di prendere questa angolazione qua questa parte che evidenzio col mouse sarà supportata sarà supportata da un supporto che sale da qua dopo due o tre prove di stampa quindi ho messo una L per far sì che l'aderenza aumenti e che l'oggetto non ondeggi poi ho inclinato l'oggetto in modo che questa parte qua sia il più dritta possibile e che qua all'interno non escano supporti qua all'interno che l'angolazione di queste righe che vedete non sia troppo pesante inoltre ho abilitato i supporti ovviamente solo dove tocca col piano di stampa e li ho messi molto aderenti alla stampa tantissimo riempimento 40 per cento e un angolo di sporgenza del 30 per cento perché perché ho ricercato il supporto che mi faceva più comodo questo supporto ho messo anche una L vedete si può vedere meglio il mesh mixer questa L qua serve per per generare un supporto che prima non mi si creava questo supporto qua bello grosso non c'era avrei rischiato molto di far cadere l'oggetto perché qua potrebbe cascare l'oggetto invece tenendolo con la L sono sicuro che è molto più solido cambiamo un attimo il supporto mettiamolo al 30 per cento perché perché ora c'è una bella asta di supporto qua che lo regge e non ho bisogno di avere un supporto fito al 40 ma va bene al 30 risparmi un po di materiale così facendo sono sicuro che l'oggetto parte e per un po sta in piedi sale sale poi qua appoggia sul supporto nel momento stesso in cui appoggia sul supporto la stampa è salva va su sicuramente regge e la parte che mi creava problemi riesco a supportarla è citato comunque al cento per cento la ventola e per il resto i parametri vedete di voi questo corso serve per aprirvi un po la mente e capire che l'angolo di sporgenza del supporto è molto importante e l'inclinazione dell'oggetto è ancora più importante per far sì che l'oggetto esca bene perché altrimenti qua all'interno ci sarebbero stati tutti i supporti infatti vedete in questo oggetto qua avrei fatto fatica a staccarlo e i supporti mi avrebbero fatto perdere molto tempo oltre che impiegare spazio in questo caso li ho messi esterni piuttosto che interni la l la rimuoverò poi con un taglierino insieme a tutti i nostri spazio in questo caso la brella è uscita a quando lo è passata a staccarlo e sbagliare spazio in questo caso la rappresentazione dell'oggetto è di chiudere il dito è una volta che è uscita da attenzione e le alzate